Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono CSM Channel e oggi siamo ritornati su GeoGuessr. Come prova di oggi vorrei provare a fare altre due mappe che sono quella sull'Unione Europea e sui posti famosi. Come avrete notato mi sono un po' più inallenato durante la vostra assenza. Infatti sono arrivato al livello 15 e senza indugi io direi che pare di partire con l'Unione Europea. Star Game. Vediamo come va. Allora vediamo cosa c'è scritto, cosa c'è scritto, beh niente. Qua c'è un piccolo cieco, perfetto. Lo ritorniamo indietro. Cartelli, ci sono già dei cartelli. Dove sono? Dove sono già spersi. Perfetto. No 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 invece sono qua. Forosund. Ma non è che magari siamo in Danimarca? E come sono tutti quanti non esiste. Insieme al Molise. Oppure siamo qui perché vedete anche qua su questa su questo paese qua c'è questo sincrono, non so come si chiama. Cerchiamo di trovare qualcosa in più. Qualcosa che possa darvi una mano in più. Grabo. Grabo. Gorsvik. Dove c'è tipo un battello? Vienta, Grabo. Non saprei, non saprei. Sono combattuto tra la Norvegia e la Danimarca. Allora, io come ho detto Non so dove andare Quindi io provo a mettermi qua Sui sobbordi di Oslo Può essere magari qui Ah, erano a Gotland Davvero A Visby Non lo sapevo, non pensavo che Ma poi scusami, ma Ma la Svezia non è nell'Unione Europea Io schiacciato la mappa dell'Unione Europea Non dell'Europa Vabbè, qui dove siamo Siamo per il caso in Germania? Cracovia, ok, siamo in Polonia Cracovia Quindi io prendio subito Cracovia Qui C'è una ferrovia La vedo qui la ferrovia Io provo a mettermi qua Beh, non ero poi così lontano 3 km Ero più a sub Algoraj Vietka Ok Io questa lingua non la conosco Se voi la conoscete Mi dareste una grossa mano Per me quello lì era Cuneo Per me quello lì è bosniaco Passando alle stupidate Cuneo dov'è che si trova? Cuneo, eccola qui Cuneo, ok Allora devo cercare Mondo V E Carrù Che sono lontani Qua c'è il Mondo V Carrù, ok Carrù Mondo V Mondo V, eccolo qua Quindi noi siamo Per andare al centro Di Cuneo Non è che siamo qua Fiuschia L'avevo vista male Perché quella lì è l'autostrada Stavamo in via del Borgo Gesso Conad Centro del Vasto Algida Va bene Qua dove siamo? Qua c'è qualche lingua Che può darmi una mano Ma non è che siamo di nuovo Dove eravamo prima Ma in Semplicemente Più spostati Sì Siamo di nuovo In Bosnia e Herzegovina Allora significa Che stavolta Saremo Ovviamente Vicini a Sarajevo Io mi metto già lì Io mi fido Che siamo lì a Sarajevo San Salve Cuppello Tipici nomi Bosniaci San Salvo Dove metà paese È È musulmana Te non ti aspetti Quello si chiami San Salvo È pieno infatti Di Fiat 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 Un'altra qui Un'altra ancora Cioè vedete Torna indietro Torna indietro Torna indietro ancora Adriatica Siamo sull'Adriatico Quindi vedete Non eravamo poi Così lontani Da Sarajevo Però quale parte Dell'Adriatico Cercare San Salvo Non è che magari Siamo vicini qua Vicini a Rimini Marina di Vasto Fermi Abbiamo trovato qualcosa Siamo Per caso Vicini a Vasto Ma il problema è Dove si trova Vasto? Non lo so Allora datemi Due minuti Che lo cerco Due very boring minutes later Facciamo una cosa Io senza ne leggere Ne scrivere Io mi metterei A Marina di Altiduna Vediamo cos'è che mi dà Vasto era più in basso Non me lo aspettavo And Abruzzo Proprio sul confin E sul confine Sul nulla Mentre chiamato Molise Ok Ultima mappa Ok Siamo in Olanda Olanda O Belgio O Lussemburgo O tutte e tre Insieme Appeldorn 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 Può essere qualcosa Amsersfoort Appeldorn Oddio L'abbiamo trovato Appeldorn Ok Sai che forse siamo qua Niente Eravamo da tutt'altra parte Ah eccola Calakazes Ok Dai 20.000 punti Non è niente di male Adesso Come abbiamo detto prima Andiamo sui loghi del famoglio Quindi ci vediamo lì Con uno schiacco di dita Eccoci qua Ritornati Andiamo con l'ultima mappa Di oggi Sì Ho capito com'è Ma dove che si trovava E questo si trova Caspiterina È quello Quello della Il castello della Disney Il castello della Disney Dove che si trovava Mi ricordo che era tipo Qua sotto Mannaggia Questo Forse era questo Ah Era da tutt'altra parte Non era No era lo Schloss Schloss Neuschwan Neuschwanstein L'ho avrò detto malissimo Scusatemi Tutti i tedeschi che mi ascoltano Scusatemi 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 questo niente era lì o che qua dove siamo dove siamo ah beh editor fai partire subito la battuta che si aspettano tutti quanti eccola qua allora noi siamo un attimino avanti siamo sulla riva quindi saremo qua di cinque metri beh dai non è niente male praga viscere a vicino vicino cos'è che era era lo star o messi capi nottecca vets diciamo nulla nulla più cosmico a non pensavo non pensavo che eravamo a las vegas a love svegas in provincia di parigi quindi io direi che siamo qui e da quali mannaggia lo schizzo sempre dall'altra parte qua siamo davanti a una tomba vedo a una tomba che si trova a agra ad agra che porca vacca che città gigantesca siamo davanti al tasmal quindi noi siamo direttamente qua i cinque metri in questa siamo nati meno di un punto siamo andati mille punti vabbè dai una mappa sul regno unito così a sorpresa era meglio che non lo facevo terra quella più selvaggia dove si può trovare l'intera più selvaggia qua ma neanche poi più così neanche così lontani in verità qui dove siamo perfetto il cartello non mi dina nulla fettes park scottish field appena leggo scottish field io penso subito da denimburgo eravamo veramente a denimburgo buon per me qua invece dove siamo io come detto sembra tanto liverpool e mici butto era ipswich ok allora oh mio dio oh mio dio non mi direi che siamo lì caspiterina siamo veramente lì niente cancellate quello che vi stavo dicendo allora highlands sono qua giusto qui ci sono le highlands quindi siamo a gasbo eravamo a duberdy vabbè vediamo il sommario 12.000 punti vabbè questa qua l'ho giocata più alla veloce e niente ragazzi e con questa schermata quello che posso dirvi è ciao ci vediamo la prossima statemi bene